Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie dell'invito, mi dispiace molto non poter essere lì con voi, ma sono abbastanza giustificato avendo l'Assemblea Nazionale dell'Associazione Pia Social, oggi a Roma, ringrazio innanzitutto per l'invito il Formez e anche il Forum PA e in modo particolare anche la Regione Calabria che si sta impegnando sul tema delle competenze digitali, sullo sviluppo del digitale e delle competenze collegate, proprio su questo che è il tema su cui vi confronterete oggi, ovviamente l'Associazione Pia Social è a disposizione per ulteriori confronti e per partecipare a nuove occasioni di questo vostro percorso legato al digitale, le competenze digitali oggi sono fondamentali, sono uscite anche dati di questi giorni su vari giornali, il problema vero è che non si trovano persone da inserire all'interno delle pubbliche amministrazioni e non solo su tante competenze digitali, noi lavoriamo specificatamente sul lato della comunicazione ma oggi il digitale tocca direi a 360 gradi la vita quotidiana di tutti noi, quindi ad ogni servizio, informazione, comunicazione, sulle infrastrutture, sulla smart city, in ognuna di queste parti della nostra vita quotidiana ci sta dentro il digitale, il digitale ha bisogno di essere semplice, di essere qualcosa di normale all'interno della vita quotidiana di tutti noi e percorsi come il vostro sono fondamentali, l'importanza di avere delle istituzioni come una regione ma anche del livello nazionale, dei livelli comunali, di tutto quello che è il motore delle nostre città, le aziende pubbliche, trasporti, sanità, turismo, insomma tutto quello che vi può venire in mente oggi è legato ad un buon utilizzo del digitale, un digitale che deve essere a portata di cittadino perché in Italia oggi abbiamo tantissimi servizi digitali, tantissime esperienze positive di comunicazione e informazione attraverso gli strumenti e le piattaforme digitali, però a noi serve uno scatto, questo vale, ripeto, per il livello nazionale, quindi dall'Agenzia per l'Italia Digitale al Team per la trasformazione digitale, sono stato ieri al raduno dei responsabili per la trasformazione digitale, quindi è un livello tecnico, è un livello legislativo, è un livello di comunicazione, è un livello di informazione, è un livello di formazione e aggiornamento costante che vale per i cittadini, vale per le PA, vale per le utilities, vale per le aziende. Dicevo, un digitale a portata di tutti, cosa significa? Che il digitale assolve al suo compito principale se è qualcosa che ci risolve e ci migliora la vita quotidiana, se mi semplifica la vita, allora abbiamo fatto un buon lavoro, se diventa un ulteriore adempimento non abbiamo fatto un buon lavoro, perché a quel punto il cittadino, ma tutti noi, anche da operatori di un settore come questo, non ci fideremo più del digitale e torneremo ad utilizzare solo sistemi tradizionali che non vanno abbandonati, ma vanno rafforzati e integrati grazie alle potenzialità del digitale. Sul tema vostro di oggi, perché il digitale sia effettivamente vita quotidiana, normalità delle nostre amministrazioni, delle nostre utilities, delle nostre imprese, servono le professionalità e l'organizzazione. Oggi non si può più fare a meno delle competenze e delle professionalità. Avere le competenze significa ovviamente investire sulla formazione, investire sull'aggiornamento continuo, investire sul riconoscimento delle professionalità. Pensate alla pubblica amministrazione, dove ad esempio una figura a noi cara, perché ci occupiamo di comunicazione e informazione, cioè quella del social media manager, cioè quella di chi analizza i dati, di chi fa open data, di chi fa design, di chi fa il videomaker, e ne potrei dire molte altre, c'è un elenco europeo di competenze digitali, mi pare siano più di 30, non vorrei sbagliarmi, che vanno dal campo della comunicazione fino ad altri campi, ma che sono competenze fondamentali che noi dobbiamo non solo inserire, ma riconoscere con percorsi legislativi, con modalità di acquisizione, di ricerca chiare, perché oggi noi non abbiamo percorsi chiari, ne abbiamo tantissimi, a volte anche un po' improvvisati, ma non abbiamo percorsi chiari e su questo dobbiamo assolutamente lavorare. Le competenze non bastano da sole, ma vanno organizzate e quindi serve un'organizzazione dedicata a quel tipo di mestiere, a quel tipo di lavoro, a quel tipo di utilizzo, dove il riferimento finale è il cittadino e perché sia davvero il cittadino il riferimento finale, quindi il servizio, la comunicazione, l'informazione al cittadino, a partire, ripeto, dalle infrastrutture, non entro nel tema del digital divide, di quanto sia fondamentale avere le infrastrutture, però dalle infrastrutture fino all'ultimo miglio, che può essere anche il singolo tweet, la singola informazione, il singolo messaggio in chat, noi dobbiamo garantire che questo sia fatto per avere efficacia, efficienza, velocità, tempo reale con il cittadino. Per farlo, ripeto e vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro, serve investimento forte sulle competenze, in modo da non leggere più che ci mancano figure in questo campo, investimento forte, riconoscimento e nuova organizzazione del lavoro. Io con questo vi ringrazio, mi dispiace non essere lì con voi, però ci saranno sicuramente tante altre occasioni. Grazie e buon lavoro!